Partita dal notevole peso specifico, quella di domani allo Stadio Mariotti fra la Val di Nevole Montecatini e lo Scandicci. Nonostante si tratti soltanto dell'ottava giornata, infatti la sfida ha già il sapore di una specie di spareggio salvezza, visto che i termali sono ai limiti della zona play-out e i fiorentini al penultimo posto. Sentiamo l'allenatore dei Bianco Celesti, Pino Murgia, avvicinato in occasione della presentazione della terza maglia ufficiale della squadra, cerimonia questa che si è svolta nella sala conferenze del Grand Hotel Plaza. Come sta la squadra e come hai preparato questo match con lo Scandicci di domenica? Diciamo bene come tutte le altre partite, perché è vero che è una gara importante, ma sicuramente il campionato non finisce domenica, qualunque sia il risultato, perché anche in caso di vittoria, che è quello che mi auguro, ci stiamo preparando al meglio per vincere questa partita, ma anche vincendola sicuramente il campionato non finisce domenica. Che cosa hai visto che non ti è andato a San Donato Tavarnelle che non vorresti vedere domenica con lo Scandicci? Diciamo un po' di attenzione in più sulle pallene attive, ma soprattutto la parte finale dove tutti i giocatori che hanno avuto la possibilità di subentrare non hanno dato quello che ci si aspettava. È un'occasione persa per loro. Come sta la squadra? La squadra sta bene, come tutte le settimane si lavora molto bene con intensità, poi sicuramente a me non mi influenza il risultato della domenica. Come si mette in difficoltà lo Scandicci? Si mette in difficoltà con la determinazione, con la concentrazione dal primo minuto fino al 96esimo, perché se noi abbassiamo un attimino l'intensità di gioco sappiamo che possiamo andare incontro a dei problemi, perché comunque lo Scandicci, anche se si trova lì a un punto e una buona squadra, sicuramente è costruita con degli obiettivi più importanti dei nostri.